Ascolta la parola di Dio per credere. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, anche oggi lasciamo che la parola di Dio possa entrare nella nostra vita e portare grandi frutti. Ecco il Vangelo secondo Marco capitolo 12 dal 28b al 34. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli iscrivi e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose il primo è ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene maestro e secondo verità che egli è unico e non vi altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Amen. Carissimi, oggi ci troviamo di fronte ad uno scriba che chiede a Gesù con una domanda qual è il primo, il più importante tra tutti i comandamenti. Infatti al tempo di Gesù esistevano oltre alla legge mosaica ben 613 precetti fatti dall'uomo, dalle scuole, degli scribi, soprattutto affinché questa legge mosaica fosse garantita, custodita. E tra tutti questi precetti almeno 365 pensate erano proibitivi, non devi, non devi, non devi, mentre altri 248 erano positivi, devi, devi. Quindi capite che di fronte a centinaia di precetti insieme alla legge mosaica, l'uomo a quel tempo era abbastanza confuso, soprattutto che cosa devi fare, cosa va bene, cosa non va bene. Gesù risponde citando lo Shema Israele, Deuteronomio capitolo 6 versetti 4-5. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Lo Shema Israele è una preghiera che ancora oggi gli ebrei fanno e che dovremo anche noi fare come cristiani. È importante infatti l'ascolto. La fede di Abramo è venuta dall'ascolto alla chiamata di Dio. La fede dei patriarchi è venuta da una obbedienza ad un comando di Dio, ad una esortazione da parte di Dio. La fede del popolo di Israele è sempre stata una risposta alla voce di Dio che chiamava. Gesù lo riprende, ascolta Israele. Perché se noi quando preghiamo non ci mettiamo in questo ascolto di ciò che Dio mi deve dire, ci deve dire, la nostra fede appassisce, viene sbiadita, diventa tiepida perché io mi fondo su ciò che penso, non su ciò che ascolto. Il discepolo, ecco la scuola del discepolato con il maestro Gesù Cristo, è colui che ascolta quotidianamente quella parola che è vita, che è luce, quella parola che suscita in me la fede. Addirittura pensate che San Paolo, la lettera ai Romani al capitolo 10, versetto 17, dice che la fede, certamente è un ma nasce dall'ascolto. Pensate che meraviglia e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Domandiamoci se le preghiere che noi facciamo hanno l'ascolto di ciò che Dio ci vuole dire o se invece siamo soltanto noi che parliamo a Lui, noi che preghiamo a Lui, noi che abbiamo qualcosa da dire, abbiamo qualcosa da chiedere, ma non stiamo in silenzio e ascoltiamo ciò che Dio deve dirci. Ecco un metro, ecco una misura per comprendere se è la giusta direzione la nostra spiritualità cristiana per far crescere la nostra fede. Ma se noi soltanto diciamo, oh Dio, accresci in me la fede e non ascolto mai la sua parola, la sua voce, in me la fede non crescerà, rimarrà zero, perché chiedo una cosa che non posso avere. Romani 10, la fede nasce dall'ascolto della parola di Cristo. Più tu ascolti una persona, la conosci e vedi che quella persona ti piace da come parla, dalle sue parole, più ti innamori di questa persona, stai con questa persona, hai fiducia di questa persona, così è con Dio. Più lo ascolti, più lo conosci, più vuoi stare con Lui e più hai fiducia in Lui e hai la fede. Allora oggi mettiamoci in questo ascolto e oggi il Signore ci dice amami con tutto il tuo cuore, la mente e le forze e ama il tuo prossimo. Apriamoci a Lui e invochiamo lo Spirito Santo. Vieni oh Spirito, tocca il mio cuore oggi perché io posso essere sempre quel discepolo di Cristo che ascolta le parole di vita che escono da Gesù. Spirito Santo vieni in fondo in me il coraggio, la volontà, il desiderio e la costanza di ascoltare quello che Gesù mi dice nella Sua parola. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora cari amici ricevete lo slogan di oggi, ascolta la parola di Dio per credere. Non dimentichiamoci Romani 10, 17. La fede nasce dall'ascolto che riguarda la parola di Cristo. Ecco perché con il seminario online che abbiamo iniziato, Gesù nei quattro Vangeli, è possibile iscriversi tutto il mese di giugno, noi suscitiamo sempre più l'amore verso Gesù, verso la Sua parola. Che Dio ci benedica in questo giorno e benedica davvero tutto ciò che faremo per Lui. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao. Ciao.